Ciao Eugenio, ciao a tutti quanti, vi sento forte e chiaro. Adesso ti sento benissimo anch'io, spero ti sentano bene anche i nostri interattori collegati, sono più di 1300 persone ormai dalle 4 di oggi pomeriggio qui stiamo seguendo lo scrutinio, fondamentalmente la certificazione dei dati provenienti dai vari stati degli Stati Uniti rappresentati dal governatore, adesso mettiamo anche la schermata che ci ricorda che in collegamento con noi da Roma c'è Matteo Brandi. Matteo, hai seguito un po' la giornata, che ne dici? Secondo me stiamo assistendo a una giornata che verrà ricordata nei libri di storia, non penso di esagerare perché quello che sta accadendo in queste ore è unico, è un unicum proprio nella storia americana e direi occidentale, anche perché quello che succede negli Stati Uniti nel bene e nel male purtroppo ci riguarda sempre e comunque, perché in questo momento sta letteralmente saltando in aria quel bipolarismo che abbiamo conosciuto per una vita, cioè questa contrapposizione tra democratici e repubblicani, perché da una parte c'è il Partito Democratico che ha dimostrato di non voler nemmeno affrontare il problema dei brogli elettorali che ci sono stati, perché non si può più nascondere questo. C'è stato di tutto, dalle schede contraffatte alle minacce di morte, al sistema Dominion che era facilmente bucabile anche dall'esterno, queste macchine erano peraltro collegate ad Internet. Ecco, tutto questo è stato letteralmente rimosso dai democratici che hanno scelto letteralmente di non considerarlo. Il problema qual è? È che dall'altra parte ci sono 70, quasi 80 milioni di americani che invece pensano che questo dovrebbe essere non solo affrontato, ma che sia la prova lampante, la pistola fumante, che pur di salire al potere dall'altra parte abbiano utilizzato ogni mezzo possibile. E anche il Partito Repubblicano ne esce veramente con le ossa rotte, perché è uccito fuori, ma questa cosa si sapeva da un po' di tempo, ma adesso diciamo che abbiamo la certezza, che è un partito pieno di rinos, ti dicevo prima. Cioè i rino sono praticamente i Republicans in name only, cioè i repubblicani giusto di nome, no? Tanto per dire i Bush, ad esempio, che non a caso hanno anche appoggiato Biden. Ecco, da una parte quindi un partito democratico che sceglie di non affrontare la realtà e chiudersi nei palazzi, dall'altra un partito repubblicano formato da gente che poi stringendo stringendo ha scelto di tirarsi indietro e dall'altra invece ancora 70-80 milioni di americani, peraltro supportati da una percentuale altissima di elettori, più del 40%, che è convinta che ci sono stati delle frodi elettorali. E attenzione, sto parlando di elettori sia democratici che repubblicani. Sì, poco fa anche Roberto Mazzoni dava delle percentuali sia dei repubblicani ma anche un 17, se non sbaglio, per cento di democratici che sostiene, che ha convinto del fatto che ci siano stati brogli appunto durante le elezioni. Tu parlavi poco fa del supporto appunto di una grande fetta della popolazione che in questo momento stiamo vedendo manifestare fuori dal Campidoglio, fuori dal congresso fondamentalmente. Esattamente. A Capitol Hill, sì. Ma non solo. Si stanno assembrando. Non solo. Si stanno assembrando, come si dice. Assembrando, assembrando, che se diciamo assembrando poi ci prendono in giro per altri. Esatto, così li spaventiamo per bene. Per altri sei mesi. Sì, peraltro c'è stata anche un'irruzione di un gruppetto di persone che sono riuscite letteralmente ad entrare. Per carità, da quello che abbiamo visto per ora, nulla di grave, ma anche quello non era mai successo a quanto pare. O comunque non nella storia recente. Quindi questa è la prova che c'è una tensione altissima. Cioè, ne parlavo qualche ora fa con un amico che mi diceva sì, però comunque prima o poi dall'altra parte bisogna accettare. Un po' come è successo con Al Gore e Bush, no? Con la questione per cui anche lì erano usciti fuori insomma delle cose non ben chiare. Però alla fine poi Al Gore accettò la vittoria di Bush. Il problema è che qui ci sono due visioni proprio di mondo. Cioè, non è solamente una questione tra democratici e repubblicani. Ci sono due visioni di mondo che non sono più conciliabili, che sono esasperate da una parte e dall'altra, perché questo bisogna riconoscerlo. Ma veramente io non vedo una risoluzione pacifica della questione a meno che non si faccia chiarezza. E in questo, secondo me, hanno la colpa soprattutto i democratici e i repubblicani, come dire, codardi da questo punto di vista, che hanno letteralmente nascosto la cosa sotto un tappeto. Cioè, le prove che sono state presentate anche, hanno cercato di farle arrivare anche alla Corte Suprema, praticamente gli si è risposto dicendo no, non le prendiamo neanche in considerazione, non le guardiamo neanche. E ovviamente questo ha esasperato gli anni e secondo me in questo momento gli Stati Uniti sono molto vicini a una spaccatura reale. Matteo, in questo momento le sedute sono sospese e le proteste invece vanno avanti. Secondo te come finirà la giornata? A questo punto il risultato, penso sia, l'abbiamo detto anche prima con Arnaldo, abbastanza scontato. Però, ecco, sarebbe dovuto arrivare almeno entro la nottata di oggi. A questo punto pare che si possa slittare tutto. No, io non credo infatti che oggi sapremo più di tanto. Però, come ti dicevo, trovo molto più interessante quello che sta accadendo fuori dal Senato e dalla Camera perché è lì che si sta vedendo un'America che è già fuori da questi meccanismi. Quello a cui stiamo assistendo è un popolo americano, o meglio una parte del popolo americano che sta dicendo noi questo non lo accettiamo. E questo per forza di cose ci deve far riflettere, nel senso che noi ormai ci siamo autoconvinti, soprattutto qui in Occidente, che la storia sia un qualcosa che non ci riguarda più. No, che ci passa sopra, va avanti e noi non possiamo che essere spettatori. Questa è la prova che invece nel momento in cui ci si muove si possono cambiare le cose. Perché, attenzione, oggi o comunque nei giorni successivi, non credo oggi, potrebbe essere dichiarato vincente in maniera definitiva Biden, ma questo non significa che sia finito lo scontro che è solamente cominciato tra due visioni di mondo assolutamente non conciliabili e il terreno di scontro sono gli Stati Uniti. Quindi penso che ne vedremo delle belle. Io aggiungerei che probabilmente questo scontro si è radicalizzato e si è amplificato proprio a seguito delle elezioni della giornata, della nottata che abbiamo seguito anche in diretta noi delle elezioni americane. Perché da quel momento in poi in qualche modo sono caduti molti dei veli. Ecco, mettiamola così. Abbiamo parlato prima anche di queste informazioni che arrivano sul presunto coinvolgimento di altri organismi italiani nella manipolazione dei dati per quanto riguardano i sistemi Dominion con coinvolgimento presunto sempre ripetiamo di anche infrastrutture militari e non civili. Comunque mi spiace... Si parla della Leonardo, si parla dei nostri servizi segreti. Però su questo noi forse da fuori abbiamo visto esasperarsi lo scontro soprattutto dopo le elezioni o comunque nella nottata delle elezioni. in verità quando Trump ha vinto nel 2016 chi insomma seguiva anche le vicende americane sa benissimo che la prima cosa che hanno fatto i democratici ed è per questo che assolutamente non possono ergersi a difensori della... Della libera democrazia. Della pace ma anche solo del viver civile. Ecco, diciamo così. La prima cosa che hanno fatto i democratici è stata chiamare fondamentalmente alla resistenza. Certo, certo. E poi tutto quello che è avvenuto con il Russiagate a livello anche giudiziario e parlamentare. è stato una vergogna perché ha riempito giornali e telegiornali e non ha portato assolutamente a nulla e non ricordo in quel periodo Twitter o i grandi social censurare chi ne parlasse anzi. Quindi ormai è chiaro che esiste un mondo che ha dalla sua parte le grandi compagnie, le grandi multinazionali, i giganti della Silicon Valley, le grandi piattaforme social che ormai agisce in maniera totalitaria. L'abbiamo visto in queste elezioni, l'abbiamo visto dopo nelle settimane in cui non si è potuto nemmeno parlare di quello che stava succedendo e lo sai qual è la cosa che mi fa più sorridere? È che in questo momento magari milioni di italiani stanno vedendo magicamente apparire nelle prime pagine delle varie testate online la notizia di questa folla a Washington e non sanno il perché. No, in realtà guarda, ti rassicuro i flash che girano in questo momento sui canali ufficiali sono sostenitori di Trump fanno eruzione a Capitol Hill nel giorno in cui il congresso scontri tra polizia e manifestanti seduto a sospesa evacuato il vicepresidente Pence questa è esatto quindi questa è la narrazione ovviamente la cosa verrà dipinta come dei facinorosi che non si sa per quale motivo sono lì a Washington forse per scattarsi qualche foto la realtà è che gli italiani purtroppo a causa di questa nostra informazione a del poco vergognosa non sanno come ci si è arrivati lì non lo sanno non lo sanno la quantità di prove che sono uscite fuori di testimonianze giurate di gente che ha visto le peggiori nefandezze succedere in quelle cabine elettorali durante lo spoglio lo scrutinio quindi purtroppo paghiamo la nostra informazione che è a un livello vergognoso però comunque vada ripeto secondo me siamo alla vigilia di un grandissimo cambiamento storico negli Stati Uniti e non solo allora intanto vediamo chiaramente Ted Cruz portato via su una sedia non a rotelle ma su una sedia da ufficio con delle rotelle sotto e trascinato da una parte all'altra di un corridoio io adesso tornerei con l'audio e le immagini da Capitol Hill appunto per capire cosa sta succedendo Matteo qualcuno qui in chat intanto ti salutano tutti ti ringraziano per questo tuo intervento e qualcuno scrive guardate che la libertà non si riconquista con una penna lasciamoci su questo allora diciamo questo sono tante frasi che sono state dette nella storia sulla libertà ad esempio della patria Furio Camillo diceva la patria non si riscatta con l'oro ma col ferro questo utente scrive la libertà non si riscatta con la penna io penso che servano tutte le cose serve la penna serve il ferro in alcuni casi serve l'oro serve qualsiasi cosa io credo che ognuno di noi può fare la sua parte da questo punto di vista anche con piccole cose quotidiane piccole azioni quotidiane però quello che sta succedendo negli Stati Uniti ci dimostra che muoversi e dicendolo alla francese muovere il culo porta risultati perché non è vero che non ha senso che non serve a niente stare in piazza farsi vedere lo dicevamo anche nella diretta dell'altra volta che c'era che diceva sì vabbè ma perché scendiamo in piazza tanto non serve a niente guardate quello che sta succedendo negli Stati Uniti la pressione che stanno facendo alle persone dentro alla Camera e al Senato è enorme e questa andrà a influenzare quello che succederà dopo anche se poi alla fine Biden venisse confermato perché è un messaggio che il popolo sta dando noi ci siamo noi siamo vivi noi vogliamo combattere e questo ha un significato e porta a dei risultati enormi quindi questa è una lezione per noi italiani non è vero che non serve a niente stare in piazza cominciamo a scendere in piazza più di quanti siamo stati fino ad oggi perché dobbiamo essere molti di più e magari quelle immagini prima o poi le vedremo anche qui in Italia bene Matteo noi martedì prossimo ricominciamo con i live serali quindi se vuoi ovviamente sei invitato come tutte le altre volte e ci faranno compagnia i nostri interattori con le note audio che possono mandare al canale Telegram abbiamo visto abbiamo visto che anche il tuo canale Telegram Matt Chiocciola Brandi lo hai cominciato a riattivare un bel po' scrivi un sacco di roba mandi non un sacco di roba comunque vedo che scrivi abbastanza e mandi cose molto interessanti e di questo ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio serve anche per bypassare un po' la censura degli altri grandi social e poi non smetterò mai di dirlo cerchiamo troviamo sponsorizziamo creiamo nuove alternative perché anche quella gente che sta lì a Washington in questo momento si muove soprattutto su social alternativi assolutamente d'accordo anche questa è una bella lezione bene noi come sai bene stiamo lavorando anche su questo in questo momento abbiamo aperto la segreteria telefonica del canale Telegram quindi chiunque voglia intervenire volesse intervenire può mandare una nota audio come commento agli ultimi post nel canale Telegram Matteo ti ringrazio tantissimo se vorrai ci vediamo martedì per tutto il resto assolutamente buona fine epifania e buon fine settimana praticamente perché ci siamo ricambio ricambio gli auguri e speriamo di trovare nella casa qualcosa di meglio di quello che abbiamo trovato negli ultimi anni ecco la buttiamola così va bene basta carbone grazie basta carbone basta carbone in prestito poi peraltro lanciamo l'astag basta carbone basta carbone ciao Matteo ti ringrazio ciao Eugenio ciao a tutti ciao e allora noi torniamo con l'audio e le immagini che ci arrivano da da Mazzoni News vediamo un po' che cosa si sta dicendo in questo momento vediamo delle interviste all'interno del palazzo del congresso il signore sta dicendo che in realtà lui era nella camera dei deputati non ha sentito nessun colpo sparato alcuni dicono che può esserci stato un colpo